Come se si fosse allontanata anche da una parte di me. A breve ritroverà il suo corpo, da qualche parte, forse nella sera, avrete non ci immagini. Ma per quanto adorasse la sua città non avendo scendersi una fine melimosa e putrica negli acoli del tele e degli osti, ha ben piede e volato, con i vestiti che poi ha portato ultimamente, non aveva un soldo e girava a bottolata in capi di Prada, di Ores, Saint Laurent, quando si dice non avere alcuna voglia di arrendersi. Ma era questo che c'è una crescente. A volte pensavo che anche lui, lavorato da un grande, era solo un mediatore, incontro luce, di un incontro vento e carico di passione. E il nostro, lo suo fuoco, tanto, lo sito di mare che è stampato su uno di un chelabrische, di anche via di seta e scenate per la suite da Dupè. Viene da chiedersi perché ci abbia scelte così simili. Perché non si sia in fondo contentato di vita. L'abbiamo incontrato praticamente nello stesso momento. Non avevamo neanche trent'anni e eravamo all'apice della Decipro a Campone.